Green Pass, mascherina e distanziamento. Con queste poche e semplici misure di prevenzione è partito un nuovo anno scolastico, il terzo ai tempi della pandemia. Docenti, personale ATA e soprattutto studenti hanno finalmente ripopolato aule e corridoi degli istituti scolastici, ma se per gli alunni l'unico vincolo è rappresentato dalle mascherine, docenti e personale ATA non sono sfuggiti ai controlli della certificazione verde, già in obbligo nelle scuole dal primo settembre. All'Iceo Classico d'Annunzio di Pescara questa mattina le verifiche sono state effettuate manualmente per problemi alla rete internet, ma già da domani sarà in uso la piattaforma Sidi che incrociando i dati dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione consentirà di semplificare le procedure di accertamento del Green Pass per i dipendenti delle scuole, come ha spiegato Antonella San Vitale, dirigente scolastica dell'Iceo Classico d'Annunzio di Pescara, dove i due collaboratori risultano sospesi per mancanza di certificazione verde. Innanzitutto siamo felicissimi di ritornare in presenza, è un'emozione grandissima, perché due anni che non vedevamo tutti in presenza e questo è bellissimo. Noi direttamente sul Sidi, cioè la piattaforma che le scuole hanno gestite dal MIUR, in collegamento con la piattaforma gestita dal Ministero della Salute, ci rileva immediatamente tutto il verde del personale che entra a scuola, chiaramente il nostro personale, agevola tantissimo questo controllo ed evita assembramenti e impegno notevole di personale. Nella sua scuola ci sono persone che non hanno il Green Pass? Purtroppo il primo settembre due collaboratori non hanno avuto questo, non hanno tuttora il Green Pass valido, per cui ho dovuto applicare ciò che la normativa mi impone. Prima l'allontanamento immediato e l'intimazione a regolarizzare entro cinque giorni e se non si regolarizza come è accaduto c'è il decreto, abbiamo dovuto, vi ripeto a malincuore, ma è la legge, la tutela della salute pubblica, abbiamo dovuto procedere col decreto di sospensione dell'attività lavorativa fino a quando non producono un Green Pass valido, fino al 31 dicembre, che è il termine, speriamo, dello stato d'emergenza pandemico. Passato questo termine ultimo, che cosa accadrà? Cioè si prevede anche il licenziamento? Solo il decreto di sospensione, che è pesante per un lavoratore perché comporta l'assenza di stipendio e la sospensione proprio di tutta l'attività lavorativa. E cessa il decreto di sospensione nel momento in cui il lavoratore si presenta col Green Pass valido e può entrare a scuola regolarmente e espletare il proprio servizio.